All right, all right, all right, AI Show e ovviamente non possiamo non parlare a sto giro delle Olimpiadi di Parigi. Purtroppo non ho fatto in tempo ad andare, non come spettatore, ma come atleta ovviamente. Insomma, ho perso il volo. Ho perso, anzi qua per andare a Parigi posso pigliare il Eurotunnel e andare col tunnel qua da Brighton e arrivare giù a Parigi. Ma per un qualche motivo quest'anno non partecipo alle Olimpiadi di pelataggine dove sei stato testa di serie numero uno ai mondiali. Sarà per la prossima Olimpiadi. Partiamo con ovviamente un minimo di analisi. Non ha senso fare i conti in tasca alle Olimpiadi, ma facciamoli. Ero curioso di capire ma quanto caso sto spendendo per queste Olimpiadi? E devo dire che c'è una visione abbastanza contrastante ancora. Ci sono quelli che dicono che è un ottimo ritorno e quelli che dicono invece che si bruciano un sacco di soldi. Le Olimpiadi precedenti alcune edizioni hanno speso delle cifre fantasmagoriche. 10, 15, 20 miliardi, cifre enormi. E un'analisi sicuramente interessante era quella che prendeva atto del fatto che alcune realtà, alcune città, hanno dovuto costruire ex novo tutta una serie di impianti. Invece nel caso di Parigi vengono utilizzati tutta una serie di impianti che già ci sono. E allora a quel punto ti sei tolto una bella fetta di costi. Però ti invito, vi invito a andare a dare un'occhiata a un po' di articoli che ci sono in giro. Questo su Euronews prova a fare un calcolo dicendo ok, alla fine dei conti sarà come dire net positive o net negative? Quindi sarà negativo o sarà positivo il bilancio di queste Olimpiadi? E provano a tirar fuori tutta una serie di importi. Qua parlano di un budget olimpico per Parigi di 4 miliardi e 3. Altri articoli parlano alla fine di un budget complessivo di una decina di miliardi. Insomma, in ogni caso più economico rispetto a edizioni precedenti. E il motivo è quello lì. Un po' una presa d'atto anche del Comitato Olimpico che se devi fare un'edizione devi costruire da zero tutti gli impianti è un casino. Usare il più possibile gli impianti che hai può aiutare a ridurre i costi e questa può essere un po' la motivazione per cui Parigi tutto sommato potrebbe portarsela a casa not too bad. Ha venduto ovviamente uno spatafio di biglietti. L'interesse sulle Olimpiadi poi ci sono anche un sacco di polemiche. Inevitabilmente quando ci sono grandi eventi ci sono anche un sacco di polemiche. Alcune giustificate altre meno ma in ogni caso è evidente che le Olimpiadi attirano un sacco di attenzione e la gente guarda un sacco di roba, guarda un sacco di sport che non avresti mai visto in vita tua perché con lo spirito olimpico non segue tutte le gare, segui la tua nazione, allora ti interessi anche su tanti sport anche minori come può essere il ping pong che ricordo tenis tavolo e sport olimpico. Adesso ovviamente ne parliamo, non possiamo parlare di ping pong alle Olimpiadi, potrei fare sette puntate solo su ping pong alle Olimpiadi. Però questi sono un po' i numeri olimpici. Una stima di 10 miliardi di costi, da dimostrare se il ritorno sia positivo o negativo, potrebbe essere positivo. Il calcolo, poi ci sono miliardi di diverse formule che vengono utilizzate per valutare l'impatto perché poi valutare l'impatto diciamo a entrate e ricavi ma poi valutare anche l'impatto complessivo su quello che è l'immagine. E allora il fatto che tutti vedono Parigi e poi in futuro comunque ci sarà più turismo e ci sono tutta una serie di benefici che arrivano poi anche posta, non si esauriscono rispetto a quella che è la durata delle Olimpiadi. Dall'altro lato la cerimonia ad esempio di apertura è stata molto criticata, se tu fai una cazzata in mondo visione questo può avere un impatto negativo e via così. Quindi ci sono tante visioni su questo argomento. Era così, una curiosità quando uno si chiede ma queste Olimpiadi quanto costano? Parecchi miliardi e poi ovviamente bisogna capire quali sono i ritorni complessivi. L'altra cosa che non possiamo non notare è l'utilizzo dell'AI all'interno del contesto olimpico. Forse questa è la prima vera edizione con l'intelligenza artificiale al centro. Non è ancora centralissima, sono tanti esperimenti, test, però vedi che da qua in avanti l'AI c'è festa finita. E come viene utilizzata, ti chiederà l'AI, anche qua un sacco di utilizzi sui contenuti, chiaramente su quello che possono essere le riprese per generare gli highlights e generare nuove tipologie di riprese che magari prima era difficile da fare. L'AI è usata per il consumo energetico, allora c'è tutto un papiro che il Comitato Olimpico ha fatto su come utilizzano per ottimizzare il consumo energetico complessivamente la sostenibilità dei giochi olimpici. Tema estremamente complesso perché c'hai una marea di persone, milioni di persone che arrivano, come puoi definire sostenibile milioni di persone che arrivano in una città? Non lo so, spiegatemelo, però rendere più sostenibile, mettiamola così, quello che può essere l'impatto e poi tutta una serie di sviluppi per gli atleti, per identificare nuovi talenti, per essere supporto agli atleti olimpici, bla bla bla. Se ti interessa l'argomento, digital twinning, questa è un'altra cosa interessante, le simulazioni, puoi fare tutta una serie di simulazioni e scenari, prima te li fai nel tuo ambiente simulato, vedi se funzionano e poi li applichi alla realtà e questa è una cosa che abbiamo visto spesso anche in passato. Se ti interessa l'argomento, c'è una Olympic AI agenda dell'International Olympic Committee, IOC o IOC, e l'Olympic agenda ti definisce quali sono i settori principali. In particolare hanno, te lo faccio vedere, abbracciare il potenziale dell'AI, hanno i loro 5 guiding principles, i loro 5 principi che guidano il tutto, supporting athletes, clean competition and safe sport, eccoli qua, i 5 principi. Quindi supportare gli atleti, avere una competizione più pulita possibile, pulita nel senso non dopata possibile e sicura, abilitare un accesso democratico ai benefici dell'intelligenza artificiale, ottimizzare tutte le parti di logistica e operation dei giochi olimpici e parolimpici con un focus sulla sostenibilità. Peraltro abbiamo un atleta qua di Brighton, parolimpico, giocatore di ping pong, che alle Olimpiadi sono curiosi di vedere cosa sta combinando. Growing engagement with people, creare maggiore coinvolgimento con le persone, questo può essere sia online sui social, con i contenuti, e sia anche dal vivo, se ti inventi degli utilizzi dell'AI dal vivo durante gli eventi, e poi avere più efficienza in generale, e bom, qua c'è tutto il papiro, i principi. Al solito tutti ormai hanno una strategia di AI, devono anche averla, bisogna vedere quanto poi viene utilizzata, quanto i principi sono su carta, o quanto effettivamente vengono applicati, ma sicuramente questo è un momento storico con una prima edizione dell'Olimpiadi, come c'è stata la prima edizione dell'Olimpiadi nell'era dei blog, nell'era dei social, la prima edizione facebook, tutte queste robe ci sono stati dei momenti storici evidenti, a quel punto hai anche la prima Olimpiade, intelligenza artificialosa, ma andiamo al vero eroe in questo momento delle Olimpiadi sui social, è il tiratore turco Youssef Dikeç, non so se si pronunci così Dikec, insomma lui, Youssef, pratica sui social sono solo immagini sue, in questo momento c'è solo immagini sue, perché è diventato così memoso e virale, così come curiosità, lui e anche la tiratrice, che è lei in alto, eccola qua, sono diventati virali entrambi, lei per questa flemma estremamente composta, questa immagine un po' da Avengers, da film Marvel, che dici, wow, esiste anche nella realtà, non sono solamente supereroi o supereroi che esistono nei sogni, nei film, ma esistono anche nella realtà. Lui invece, con un pelo di panzetta, aggiungerei, è diventato virale perché tutti gli altri lo vedi, no? C'hanno la lente, il coso, il visore, sembrano super tecnologici, e lui invece si presenta lì con gli occhialetti, aspetta che sparo, e ha vinto a squadra, se non lo voglio, una medaglia, e allora è diventato un meme, così, con utilizzi di mille tipologie, no? Ogni volta viene adesso associato a qualche cosa, qua è Chicoins, Bitcoin, e ognuno se lo usa come vuole, però è diventato assolutamente una superstar, così come un minimo, come on, un minimo di attenzione, Berlin finalmente ce l'ha avuta anche il ping pong, merito di chi? Merito dei fratelli Lebrun, e in particolare di Felix Lebrun, se tu guardi i miei video, ogni tanto quando si parla di ping pong, peraltro anche in un video precedente citando le Olimpiadi, segnalavo che un'unica chance di vittoria oro olimpico era nelle mani di questo ragazzo giovanissimo, lui è una storia molto interessante perché sono due fratelli, anche Alexi era alle Olimpiadi e ha perso con Calderano, che adesso è in semifinale, quindi mentre registro in finale c'è Fan Zendon, che è uno dei cinesi più forti della storia, Fanzo, tira un rovescio a 300 all'ora, un dritto a 300 all'ora, super tecnico, veramente solido, ecco molto solido, nella sua carriera comunque ha perso con vari giocatori europei, non è imbattibile, però in generale in queste competizioni lui e Malong sono due killer assassini, e poi nell'altra semifinale c'è Truss Morgard, che ha vinto contro il numero uno del mondo in carica, un altro cinese mancino, adesso ne parliamo, con Ugo Calderano, quindi non so chi dei due andrà in finale, la previsione è che vada a vincere Fan Zendon, questa dovrebbe essere la previsione, è anche vero che avrà contro l'intero stadio che c'è a Parigi, perché tutti vogliono che vinca un europeo, inevitabilmente, quindi non è facile giocare. In ogni caso, Felix Lebrun, in questo articolo hanno azzeccato subito, c'è un Lebrun del table tennis e il suo nome è Lebrun, quindi è curiosa questa cosa, sono questi due fratelli, figli di Stéphane Lebrun, che era un giocatore francese, che giocava ai tempi miei, forte ma non fortissimo, perché la nazionale francese aveva ai tempi l'immenso Philippe Gatienne, detto Philou, che è stato anche numero uno del mondo a venti mondiali, e perse le Olimpiadi, perse un'edizione delle Olimpiadi in finale contro Walder, genio del tennis tavolo, il Mozart del tennis tavolo, Gatienne era fenomenale, mancino, tirava un dritto che faceva luce, due gambe con un motorino, e lui era, come dire, il numero uno di Francia. E poi c'era una generazione di giocatori, peraltro tutti mancini in quel periodo, c'era Christophe Legault, c'era Schillat, Chatelain, un po' meno, Marmurex, erano tutti giocatori di quel tipo, e poi la nazionale francese c'era Damien Nelois, che era l'unico destro, e era una nazionale molto forte, però l'unico vero forte era Philou, col papà sempre allea delle Philou, che era sempre a incitare le folle. La cosa interessante è che Stéphane Lebrun non è stato un giocatore così forte, adesso non so la sua classifica, probabilmente è stato per i 10 di Francia, 10-20 di Francia, adesso non ti so dire il livello, però non l'ho mai visto veramente fisso in nazionale, e lo zio di questi due ragazzi è Christophe Legault. Christophe Legault invece è stato molto molto forte, fisso in nazionale, anche lui è un mancino con un servizio feroce, non ti spendi dritto, è clamoroso. La cosa interessante è che io da ragazzino giocavo in Francia, andavo d'estate a fare i tornei, e giocavo contro Christophe Legault, che era più o meno la mia età. Interessante questa cosa, e all'inizio vincevo sempre io, lui era mancino la tecnica, non era neanche granché, e mi ricordo che un anno lui è andato al centro federale di Parigi, allenarsi con quelli forti, e da un anno all'altro l'hanno prima ho vinto io, l'anno dopo lo incontro, perdo in finale, negli union, categorie insomma giovanile, e poi c'era Jorgen Persson, che era il numero 1 del mondo in carica, che era in vacanza a Joan Le Pen ed è venuto a fare il torneo. Quindi tu giocavi le gare giovanili e poi nel torneo assoluto andavi e giocavi contro tutti questi giocatori. La cosa interessante è che lui, che più o meno era ancora a mio livello, cioè io ci ho perso in finale ma tirato, ecco non è che ha fatto una passeggiata, a un certo punto gioca l'assoluto contro Jorgen Persson, apro parentesi, Jorgen Persson è l'allenatore, se guarda le Olimpiadi, di Truls Moregard, che è lo svedese, che gioca la semifinale, che ha vinto con il numero 1 del mondo, Jorgen Persson, che è stato numero 1 del mondo, un fenomeno clamoroso, famoso per questa schiacciata di rovescio in salto, saltava, pum, e schiacciava il rovescio, giocatore clamoroso molto alto, leve molto lunghe. La cosa interessante è che Christophe Legault va a giocare l'assoluto, incontra Jorgen Persson, tipo al primo turno, perché era un ragazzino carciofo, ed era lì per vincere, cioè proprio dominava, l'ha preso a pallate e poi ha perso, così di emozione, immagino, giochi contro l'uno del mondo e poi Jorgen l'ha recuperata in qualche modo, però lì si è capito che questo ragazzo sarebbe esploso. Mi ricordo che appunto da lì in poi non c'è stata più partita, ogni volta che ci ho giocato, poi ci ho giocato una volta un turno internazionale e l'ho presa sempre con le mani, nel senso era proprio un'altra categoria, era diventata un'altra cosa, io invece sono rimasto al palo di una mediocrità internazionale come giocatore, però i due fratelli Lebrun hanno questo patrimonio alle spalle, quindi hanno una tradizione francese costruita su Gatien, che è stato il giocatore più forte, anche una tradizione precedente perché Secretin, Di Rochaud, cioè ha avuto sempre tanti giocatori, la Francia, forti, ma non a quel livello lì, e poi hanno trovato questi due fratelli che sono fenomenali. In particolare, Félix Lebrun fa una cosa strana, gioca a penna, cioè mentre tutti i giocatori giocano all'europea, cioè tu prendi la racchetta e impugni all'europea, no, fai il rovescio e fai il dritto, lui invece impugna a penna, cioè impugna, ti piace questa mia racchetta da ping pong, come impugnano gli orientali, che è stata un'impugnatura che per anni era considerata vincente. Poi gli occidentali hanno giocato, hanno cominciato a giocare rovescio molto forte, dritto molto forte, soprattutto a incollare, quindi quando tu colpivi, capito, davi veramente molto effetto, la palla era molto forte e tutta quella generazione lì, i Valner, i Persson, hanno vinto contro i cinesi che ancora giocavano tradizionale a penna, poi mettevano queste gomme puntinate, schiacciavano in sostanza, non facevano molto spin, schiacciavano, bloccavano, schiacciavano, servivano in modo molto arcigno, però erano molto limitati. Dopodiché c'è stata una grande evoluzione, anche i giocatori a penna si sono messi a giocare con queste gomme molto performanti, però avevano un limite su rovescio, no, perché tu giocavi a penna e poi a rovescio dovevi andare a fare un movimento molto strano, molto passivo. Fino a quando alcuni giocatori, Van Gao in particolare, fu il primo, quantomeno a livello internazionale, a venire fuori che quando gli davano la palla sul rovescio, al posto di girare e colpire con la stessa faccia del dritto, a quel punto ha cominciato a colpire con la parte sotto e quindi a fare il tuo spin anche col rovescio. Una cosa stranissima, perché prima non si era mai visto, apro parentesi, Van Gao è l'allenatore in panchina di Fan Zendon, quindi insomma, la Cina ha patrimonio culturale, pongistico fuori dal mondo. E via così, insomma, c'è stata una grande evoluzione, Felix Lebran fa questa roba qua, per cui ha due gomme sul dritto e sul rovescio, gioca a penna e ci va sempre sopra, tira a 300 all'ora, ha un servizio veramente feroce, di una velocità clamorosa, molto difficile da comprendere, il dritto quando la prende ti devi spostare, il rovescio quando la prende ti devi spostare, è senz'altro molto forte, è ancora molto giovane, ancora molto inesperto, ma è già al top e effettivamente in queste Olimpiadi si è fermato insieme, però è un giocatore che potenzialmente può diventare numero uno del mondo. Questa era la storiella che volevo dire Felix Lebran, poi dovrei fare un'intera, intera, intera puntata solamente sul ping pong, ma visto che se parli di Olimpiadi non si può non parlare di ping pong e anche qua ti do un altro aneddoto interessante che è questo. In pratica il cinese numero uno del mondo, Van Chu Kin, che è questo ragazzo qua, Mancino, ha avuto un problema, ha vinto il doppio misto e poi mentre c'era la cerimonia doppio misto, i fotografi in sostanza gli hanno spaccato la racchetta, è stato un incidente, immaginiamo, non penso che un fotografo sia andato lì a spaccare la racchetta e c'è stato questo problema. La cosa curiosa è che se uno non gioca ping pong non sa cosa vuol dire una racchetta per un giocatore, pensa al tennis, dice vabbè, spaccato la racchetta, ce ne avrai altre 50 uguali, fai l'accordatura uguale. Racchetta al ping pong invece è una cosa molto personale, ogni racchetta fa storia a sé, perché è un legno particolare che magari tu hai per anni, è un'impugnatura particolare, ha, come dire, delle caratteristiche che la rendono veramente tua, non è solo un fatto affettivo, è proprio che è una racchetta diversa dall'altra, non c'è niente da fare. Quindi le gomme le puoi avere simili o uguali, poi anche lì non è una scienza esatta, però diciamo, tendenzialmente le gomme puoi essere uguali, ma il legno è una cosa molto molto delicata, molto particolare. Rompere la tua racchetta principale, ovviamente c'hai il backup, però rompere la tua racchetta principale è pessimo, cioè è, non so, come dire, ho rotto l'automobile e il Formula 1, l'auto principale e adesso mettiamo, come dire, quella non rodata, non testata, insomma non è poco. E questo, a mio parere, spiega la sua prestazione contro Trus Morgard che l'ha portato a perdere. Non ci aveva mai perso, ha giocato malissimo oggettivamente come match, dall'altro lato è anche vero che Trus Morgard è un mezzo fenomenello, è uno pazzo, furioso, vero, gioca strano, non è che ti dà mai una palla uguale all'altra, richiama un po' Valner a livello di creatività artistica, però è oggettivamente un cattivo cliente da gestire, perché non sai mai che cosa gioca, cambio il diritto in continuazione, gli effetti li cambiano in continuazione, servizio è disposto a servizio, non fa mai due palle uguali, per cui è un giocatore che dici, boh, cosa succederà? Ma questo giocatore manciucchini, numero 1 del mondo, quando è in palla e gioca normale, gli fa i buchi sul tavolo, cioè di là c'hai Trus che fa tutti i suoi veleni, cose, e questo tira 300 all'ora, alla settima che tira, Trus raccoglie, ecco finisce lì. In questo caso complice anche il fatto che c'aveva lo stadio intero contro, non c'aveva la sua racchetta, giocava anche male probabilmente quel giorno, Morgard ha giocato molto bene, e a quel punto questo è quello che succede, insomma, non per giustificare la sconfitta, non lo conosco, non ho mai giocato contro, non ho nessun rapporto con il buon vecchio Wang Chu, però è solo per dare un contesto anche rispetto a quello che è successo, peraltro Trus gioca con una racchetta molto strana, è l'unico che gioca con questa racchetta molto strana come forma, io l'ho provato un paio di volte, non mi ci trovo per niente, non ho più paio di idee di come possa giocare con quella gege lì, se la guardi, racchetta tutta un po' spigolata, strana, però a lui piace così, buon per Trus, vedremo se magari regala il sogno e riesce a arrivare in finale e vince le Olimpiadi, sarebbe una sorpresa clamorosa, ad oggi i pronosti ci sono, Fanzendon vince, che giochi contro Calderao, che giochi contro Smorga, va a vincere Fanzendon, ma sai, le Olimpiadi è tutto possibile, mettiamola così, no, come il basket che vedi il Dream Team, stanno giocando bene, però poi sai, magari con la pressione olimpica uno cede e non riesce a performare come dovrebbe. Mi fanno qui una grande parentesi pongistica che nessuno avrà apprezzato e se sei rimasto in questo video, per te che sei l'unico, perché non c'è più nessuno, dopo 15 minuti di ping pong, non c'è più nessuno, scrivimi nei commenti se ci sei ancora, dimmi, ciao mo, sono io, anch'io gioco con ping pong, ecco, perché se no non c'è motivo per che tu resti, passiamo a parlare di AI. Che voglia c'è di parlare di AI dopo aver parlato di ping pong in questo modo, però parliamo di AI perché ci sono al solito un po' di cose interessanti, anzitutto OpenAI sta rilasciando finalmente la modalità avanzata vocale di CRGPT, quello che aveva annunciato tempo fa, CRGPT4O, famoso scandalo di Scarlett Johansson con la voce e ci sono un sacco di video interessanti, non vedo l'ora di provarlo perché è divertente, carino e gli fanno fare varie cose, vediamo l'ora di provarlo. Allora due cose interessanti, la prima cosa interessante di sta vicenda è che per la prima volta c'è la possibilità di avere una relazione vera, una conversazione efficace, è una conversazione che si basa sulla possibilità di interrompere, sarà maleducato interrompere ma lo sai com'è, una conversazione non è io parlo, stai fermo zitto così, in silenzio non dici niente, poi parli tu, poi parlo io, no no, cioè la conversazione è anche solamente ah sì, ok, eh no, ma scusa, è un continuo, non interrompersi a vicenda, le conversazioni hanno questa natura e qua per la prima volta lo puoi fare, fino ad oggi invece la conversazione è molto robotica, a volte anzi io sono in auto e sono lì a parlare con CRGPT, quando lui parte a parlare non si ferma più, gli dici fermati, fermati, questo va avanti, si va ai cazzi insomma, dici vabbè allora fatti i monologhi e che cosa stiamo qua a fare, invece in questo modo questo cambia, l'altra cosa è che gli puoi chiedere di avere varie intonazioni, diverse intonazioni ed è quello che sta facendo questo signore ok, here goes, we shall not cease from exploration and the end of all our exploring now do it in chthonic tones, chthonic tones diving deep for this one, we shall not cease from exploration and the end of all our exploring great, now do it like you're a stand-up comic trying to get people to... fallo in modo comico per far ridere la gente we shall not cease from exploration and the end of all our exploring will probably be to find out we've been looking for our glasses while they've been on our heads the whole time great, now do the quote except you are surrounded by animated cheese and the cheese keeps getting closer that's why you're increasingly nervous but you're also not sure why... ok, adesso deve essere nervosa we shall not cease from exploration and the end of all our exploring is this cheese moving closer? why is it... sorriso è incredibile la qualità se ci pensi qua c'è una semplice descrizione no? c'è una descrizione che genera questi video immagini chiaramente aspettiamo Sora mi piace queste immagini di qual era il gatto con gli occhioni giganti sempre così il gatto con gli stivali o non so quale altro gatto fosse quale film d'animazione era un classico no? il gatto con gli occhioni e via 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 dacci un'occhiata Kling AI in attesa di Sora senz'altro promette bene perché qua sai dopo un po' nel momento in cui hai la possibilità di avere video e immagini di qualità che generi semplicemente contesto beh insomma vai lontano pensa a tutte le coperture dei video i b-roll cosiddetti dei video puoi utilizzarlo in tantissime tantissime applicazioni puoi usarlo a livello formativo chiaramente nell'industria dell'intrattenimento per i contenuti nel mondo del business non c'è limite a questa vicenda qua e la qualità devo dire continua ad avanzare notizia peraltro collegata a queste settimane che Leonardo AI è stato comprato da Canva se non sbaglio e questa è un'altra cosa che vedremo acquisizioni di aziende o startup che fanno roba nel mondo dell'intelligenza artificiale appena funzionano boom vengono comprati da qualcuno che poi è un po' quello che fanno i grossi come Microsoft o vanno ad acquisire startup di questo mondo oppure investono in startup come ha investito in OpenAI tu dirai allora sono grandi amici e amiconi no perché Microsoft notizia di questa settimana ha messo nella lista dei concorrenti anche OpenAI e questo è un sistema che noi sappiamo esistere ormai da tanti anni dove hai concorrenti e amici a seconda dei momenti a seconda del settore che lavorano contro lavorano insieme è un po' come Google e Apple siamo contro però lavoriamo insieme siamo contro però io ti do poi 20 miliardi all'anno per essere il motore di ricerca degli iPhone no? cioè questa è un po' la logica che a volte è difficile da capire e quando fai un evento è una cosa curiosa questa a volte è interessante vedere come in base all'evento un'azienda che organizza l'evento immaginati Microsoft che organizza l'evento in quell'evento non si può mai parlare non so di Google all'evento dopo ah no invece Google siamo amicissimi ma come fino a tre minuti fa vi odiavate a morte no no invece adesso tutto è un continuo continuo altalenarsi e spesso una divisione fa splendidi progetti insieme sono amici per la pelle e quelli che stanno nella porta di fianco si odiano morte ma questa è una cosa che va a parte di questo mondo di competizione next abbiamo questa notizia per i dentisti in ascolto il primo fully automatic robot dentist un robot automatizzato ha performato la prima procedura su essere umano AI controlled autonomous robot has performed an entire procedure on a human patient for the first time circa 8 volte più veloce di un dentista umano notizia così che mi sembra interessante segnalare perché questo è il classico segnale premesso che io non ci andrei mai da un robot dentista in questo momento no quindi questa è la premessa che faccio cioè tu mi dici Monti vai dal robot dentista che teoricamente funziona anche se me lo piloti a distanza io ancora no ma è evidente che quando uno fa il video sull'intelligenza artificiale e nei commenti arrivano i soliti coglionazzi a dire oh ma io tanto faccio l'idraulico la porta faccio coso io lavoro manuale no significa che non sai minimamente quello che sta succedendo nel mondo della robotica se unisci il mondo della robotica e il mondo dell'intelligenza artificiale piace questo accento non so perché è benvenuto è bergamasco pota non so ecco saluta tutti gli amici bergamaschi ti fa sempre riflettere quanto si allontana la percezione di quello che sta succedendo rispetto a quello che sta succedendo le persone sono indietro 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 rispetto a quello che sta già succedendo poi fatte che qualche cosa non è detto che avvenga non perché non sia pronta è un po' come cosa c'era ti riconti quando Meta ha fatto portal dove tu potevi fare le video call in televisione eccetera le recensioni erano pazzescamente positive però nessuno lo voleva comprare quella c'è giù lì perché? perché lo faceva Facebook tu non volevi avere Zack che ti spiava in casa questa era la paura la tecnologia c'era e funzionava però poi c'era una paura diversa il prodotto non è l'unica cosa allora qua noi di sicuro arriviamo ad avere una robotica e un AI che faranno tutta una serie di cose che oggi sono fatte da umani che non si immagino minimamente che possano essere sostituite in loro attività poi la domanda che ci dobbiamo fare è li utilizzeremo? vorremmo veramente farci mettere le mani in bocca dal robot? o preferiamo andare al dentista? io preferisco andare al mio dentista ma dopo un po' quando inizi ad avere i dati fatti che una roba funziona meglio costa meno è più veloce dove vai? questa è la domanda che uno si fa e poi la cultura si sposta la società si sposta e uno cambia più velocemente o più lentamente oppure ci sono delle attività che diremo no 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 questa roba qua sappiamo che il robottino la può fare ma decidiamo per legge che non è così perché vogliamo tutela i lavoratori o per mille altre motivazioni fantastico però sappiamo che la tecnologia va in questa direzione dobbiamo esserne quantomeno consci in chiusura vorrei segnalare un po' di cosette che mi sembrano interessanti non c'entrano particolarmente con le AI ma possono così ispirare una considerazione il primo strumento è community notes di X sai che secondo me qualunque media dovrebbe avere uno strumento così perché in pratica ti aiuta a comprendere meglio un post quando vedi un post particolarmente visto tipicamente sotto c'è una roba community notes e ti dà in molti casi o più contesto rispetto a quello che è stato detto oppure ti fa il debunk di quello che è stato detto c'è il video di Denzel Washington ha detto che Elon Musk è figo ok bene poi c'è però il community notes che dice si ma questo video è di cinque anni fa ok devi avere questo tipo di contesto ed è uno strumento utilissimo cioè io vorrei vedere la BBC, Corriere, Pubblica, tutti i giornali quando ci sono gli articoli io voglio vedere community notes no no guarda che questo articolo qua non è giusto non è vero ha detto questo oppure manca questo tipo di riferimento si è dimenticato di segnalare questo fatto bla 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 perché questo ti aiuta a creare contenuti migliori più comprensibili anche uno ha un'idea più comprensibile oppure ti aiuta a vedere anche due campane differenti e a fare poi il tuo di approfondimento però è uno strumento utilissimo al posto invece di avere il giornale i media, il sito, i social questa è la verità fine e poi tutti i commenti che non si capisce i commenti sono la latrina dei social totale invece in questo modo riesci a creare più qualità la mia previsione insomma che prima o poi tutti dovranno necessariamente andare in questa direzione perché è troppo caotica l'informazione moderna notizia invece che mi sembrava curiosa è questa slide che cerca di identificare come si incontrano le coppie negli Stati Uniti e vedi che nel 1950 tu avevi nel 1950, 60, 70, 80, 90, 2000 diciamo fino al 2005 più o meno tu avrei delle persone che si incontravano in sostanza tramite gli amici, famiglia, lavoro, bar ma bar non può essere il nostro bar vabbè scuola, amici, college eccetera e poi io mi ricordo che tanti anni fa avevo fatto un'ora che si chiamava The Internet Show che era un monologo a teatro e una delle mie slide era proprio questa era ancora presto per cui la mia era ancora solamente un'osservazione di un trend io vedevo quella prima parte della curva dal 1995 l'ho vista fino, so, a 2000 2010 se non mi ricordo quando l'ho fatto l'internet show e la cosa interessante è che quando facevo vedere questa slide da teatro, facevo sto monologo dicendo guardate che la direzione è questa le persone si incontrano online bla 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 la gente proprio diceva ma questo è scemo è proprio scemo non c'era un'altra valutazione ma non è vero ma figure se tu vuoi incontrare la tua anima gemella il tuo padre una persona con cui avere una relazione duratura ecco si intende la vuoi incontrare online sembrava una roba veramente da o da gente strano da pervertiti non so, era una roba così e oggi tu vedi invece la totale esplosione e dall'altro lato il crollo invece di tutte le altre modalità che non è un aspetto positivo intendiamoci non penso affatto che sia un aspetto positivo è soltanto un trend che fotografiamo e diciamo ok, al solito quando tu provi a segnalare dei trend prima che succedano la gente ride o ti prende per il culo pensa che tu sia strano next, a proposito di trend di cose che succederanno secondo me questo è molto interessante non riguarda l'AI ma riguarda Bitcoin non si può non segnalare il fatto che Kant of Fitzgerald lancerà una unit di business per creare degli strumenti di finanziamento per Bitcoin e tu dirai e chi se ne fotte Monti? ok, you're free to think about però secondo me è molto interessante perché? perché se tu pensi oggi come si muove non lo so un tizio che ha dei soldi e ha il problema della tassazione ha il problema dell'inflazione cioè come fai a muoverti nel contesto finanziario? è molto problematico allora se tu guardi in giro i famosi billionaires che dicono come è possibile che questi non spendono una lira di tasse spendono una lira di tasse spesso Steve Jobs mi do un dollaro di stipendio la gente dice grande Steve sicuramente lavora gratis no perché semplicemente non voleva pagarsi uno stipendio o un dividendo che poi era tassato non so quanto sia tassato negli Stati Uniti 50% 47% 60% no a quel punto io non ho dividendi e allora dici ma come fai a mangiare? mangia perché sulle azioni Apple pensa Elon Musk lo stesso sulle azioni Tesla SpaceX doveva chiedere un prestito quel prestito non è tassabile quindi lui campa con il prestito che tu dici ma prima o poi lo dovrò restituire sì quando lo deve restituire fa un prestito più grande e dici ma come fa a fare un prestito più grande perché nel frattempo le azioni sono andate su sono salite e allora il tema di Bitcoin che ad esempio Michael Saylor porta avanti è questo qua lui dice guarda nel momento in cui ci saranno delle banche o delle istituzioni che iniziano a offrire degli strumenti finanziari prestiti ad esempio la possibilità di avere la custodia eccetera riguardanti Bitcoin tu avrai questo meccanismo utilizzato anche su Bitcoin quindi tu al posto di vendere i tuoi Bitcoin avrai dei prestiti contro Bitcoin e se l'apprezzamento dell'asset sarà come molti prevedono insomma grande grande crescita a quel punto seguirai lo stesso discorso cioè seguirai lo stesso playbook che hanno usato i vari Elon Musk, Jobs e mamme di Goldrake in questi anni da un lato tieni il tuo asset dall'altro lato hai la possibilità di fare la tua vitaccia e pagarti le bollette e avere anche un vantaggio fiscale quindi questo è tutto il meccanismo che nasce da questa vicenda però lo segnalo ecco perché nell'ultima Bitcoin Conference si è parlato di tutto però questo è un aspetto che è uscito un pochino in sordina e secondo me invece è una cosa da considerare ancora una volta è un'intera industria che si sta strutturando intorno a quello che è Bitcoin e qua nei commenti arriverà il solito coglionazzo a dire ma Bitcoin non ha valore prima di commentare fai un grande respiro, studia, passa dieci ore a studiare e poi se vuoi fare quel commento fallo però non farlo a caso grazie ultima segnalazione invece è una teoria cospirazionistica che ti voglio segnalare c'è la teoria del gomblotto oggi la teoria del gomblotto è questa qua ho visto l'intervista con Marchetto Zuckerberg era Zuckerberg e il fan, il fondatore e amministratore gatto di Nvidia allora ad un certo punto parlavano degli occhiali presenti quelli che fanno con luxo ottica, la realtà aumentata eccetera e dici beh effettivamente sai per mettere dentro tecnologia negli occhiali tu hai bisogno che l'occhiale non sia piccolo piccolo perché è un casino quella roba lì hai bisogno che l'occhiale invece sia più grande e allora la mia teoria complottistica è che noi vedremo una spinta a livello fashion per avere oversized glasses avere occhialoni grandi da clown, capite? per esempio i clown che hanno l'occhialone sempre più grandi il motivo molto semplice sarà che le aziende tech per poterti vendere quella tecnologia prima devono fare in modo che tu pensi e questo è molto figo avere l'occhialone gigantesco stile clown un mega occhialone una volta che ti ho convinto che quel frame è giusto poi a quel punto ti upgrade vendendoti quello invece più tecnologico un po' come quando bisognava convincere la gente che la colazione era le uova e il bacon dove sta scritto che le uova e il bacon siano la colazione era tutta la campagna di PR fatta apposta per convincerti che quella fosse una buona colazione that's it, qua è la stessa cosa prevedo complottisticamente che Mark nel buio della cameretta chiamerà le sue agenzie di PR sparse nel mondo e dirà ragazzi campagna da qua i prossimi 24 mesi occhialone extra large deve diventare la cosa più figa del pianeta staremo a vedere se resterà solo una teoria complottistica o diventerà realtà e noi ci vediamo la prossima settimana un abbraccio, ciao